siamo arrivati finalmente in porto dopo tre mesi forse anche tre mesi e mezzo in giro per il mediterraneo effettivamente ritornare a casa è anche piacevole guardiamo la nostra barca e notiamo i segni dei nostri giri effettivamente in africa parabordi con le foderine di vellura non ce n'erano ma c'erano pneumatici goodyear firestone pirelli che hanno lasciato dei bei baffi neri su tutte le fiancate dovremo dargli una giustata effettivamente anche i molli che abbiamo incontrato molto ruvidi e selvaggi hanno lasciato qualche riga sulla vernice anche quella la dobbiamo sistemare sì effetti dobbiamo fare un po di manutenzione a questa barca che ci ha accompagnato in queste splendide vacanze che si è comportata molto bene e dobbiamo dedicargli un po di manutenzione a questa barca la nostra barchetta è piccola e 9 metri e 60 con tutte le appendici arrivano a 10 metri e un ro 330 del cantiere aeronautica un cantiere che non produce più ed era un cantiere spagnolo che comunque già vent'anni fa anzi trent'anni fa produceva delle barche per quei tempi moderni in effetti guardando la nostra barca oggi non sembra che sia stata costruita 23 anni fa infatti la nostra barca ha proprio questa età ma si comporta ancora molto bene prima di tutto dobbiamo dare una bella lavata proprio come si fa quando è da troppo tempo che non si fa il bagno quindi shampoo bagno schiuma tutte le cure necessarie per renderla pulita e adeguata la barca fuori è pulita direi quasi profumata però dentro disastro perché c'è da pulire le fodere dei cuscini dei divani c'è da portarle lavare c'è da rimontarli c'è da pulire tutti gli stipetti pieni di briciole anche dove abbiamo messo il cibo c'è veramente da fare una grossa pulizia anche alla cucina per non parlare anche dei vestiti che anche se usati poco stando in barca prendono un pochettino un odore di salsedine che quindi vanno vanno sistemati anche il gommone ha bisogno delle sue cure il tender è sempre stato esposto in questi tre mesi alle intemperie poi è stato usato per andare sulle spiagge quindi era pieno anche di sabbia abbiamo dovuto lavarlo molto bene togliere alcune macchie di catrame che erano appunto su questo sulla plastica e dopo di che dopo averlo lavato bene e lasciato asciugare al sole l'abbiamo sgonfiato piegato con cura e ritirato nella sua sacco originale il tender è dotato di un piccolo motore fuori bordo proprio piccolo piccolo non è perché quando dal gommone precedente abbiamo dovuto prendere per usura uno nuovo abbiamo preso un motore leggermente più potente da sei cavalli in quanto con il motore precedente da due cavalli in francia con vento e corrente ci siamo trovati in difficoltà nel senso che solo con due cavalli riuscivamo a malapena a contrastare la corrente quindi abbiamo deciso di prendere un motore leggermente più potente ha bisogno anche lui di cure dopo una bella lavata e uno sciacquo di tutto il circuito di raffreddamento per togliere tutta la salsedine l'abbiamo ingrassato sia nei meccanismi interni che esterni con grasso blu che è proprio quello adatto per il contatto con l'acqua marina negli ingranaggi dove è presente la plastica invece abbiamo usato del grasso al silicone che è più indicato abbiamo verificato anche l'olio del motore che in questo modello della yamaka viene utilizzato anche per lubrificare il cilindro infatti si mette benzina e non miscela però l'olio viene consumato leggermente e quindi ogni stagione bisogna controllarlo per sistemare il motore sul gommoncino e per sollevarlo quando è finito l'utilizzo usiamo una piccola gruetta fatta inossidabile con due o tre snodi anche questo lo smontiamo perché se non c'è il gommone non serve nemmeno la gruetta e anche qui con un po di vd 40 un po di grasso sistemiamo tutti i bulloncini i vari leveraggi chiamo al motore insieme al gommone a tutto il resto lo sistemiamo in una cucetta nella cucetta di prua dentro al riparo barca piccola motore piccolo la nostra barca è dotato di un volvo penta da 20 cavalli però anche se piccolo ha bisogno della sua manutenzione per lasciarlo tranquillo tutto l'inverno ci proponiamo e facciamo il cambio dell'olio motore del filtro e quindi ci attrezziamo per smontare il vecchio filtro montare quello nuovo e poi aggiungere l'olio fino al livello anche il motore lo puliamo gli togliamo alcune incrostazioni anche lì i leveraggi con grasso ev di 40 dove ce n'è bisogno durante il lavaggio abbiamo visto tutti i piccoli danni che hanno fatto della vicinanza con i pescherecci e con le banchine non molto attrezzate dobbiamo innanzitutto togliere tutte le macchine dei copertoni usate al posto dei parabordi dobbiamo guardare anche tutte le piccole abrasioni fatte dai vari moli e prepariamo il tutto grattando e stuccando con della resina epossidica leggermente non sono diciamo graffi o cose molto profonde però è bene dagli una sistemata provvediamo poi a mascherare le parti da verniciare e con una bombolesta spray del colore della nostra barca è un grigio agata facciamo i vari ritocchi alla fine controlliamo e vediamo che il risultato non è niente male abbiamo ripristinato l'originale splendore della nostra piccola barca abbiamo deciso di sostituire la vecchia catena dell'ancora che ormai ha più di dieci anni e presenta alcuni punti di ruggine molto intensa che potrebbe nei prossimi anni preoccuparci quindi tiriamo fuori l'ancora che è una delta da dieci chili e poi tiriamo fuori dalla barca tutta la catena che erano mi sembra 40 metri e dopo questi 40 metri di catena c'è anche della cima e allora per fare un lavoro completo sostituiamo tutta la linea d'ancora compresa anche la cima erano 50 metri di ma del 14 si 14 mm mi sembra il tutto è comunque un bel peso che viene messo a prua della barca e in effetti adesso che l'abbiamo tirata fuori tutta la dobbiamo mettere su un carrellino per portarla via e alzare il carnellino ci fa sentire quanto la nostra povera barchetta si deve sempre portare in giro per la sicurezza archiviata la vecchia catena tiriamo fuori dal sacchetto la catena da 8 mm 50 metri appena comprata la stendiamo sul pontile in tratte da dieci metri in maniera da avere in corrispondenza i vari punti per poterli segnare con la vernice abbiamo una boboletta di vernice gialla e la usiamo per segnare appunto sulla catena il passare lo scorrere dei metri segniamo i dieci metri i venti metri i 30 metri e i 40 metri diciamo che con questi segni gialli chi si presta a calare l'ancora col passare dei segni si rende conto di quanto catena mette sul fondo con una certa qual precisione finito di segnare la catena la blocchiamo allo snodo dell'ancora in maniera robusta in maniera che non che non ceda dopo i 50 metri di catena dobbiamo anche mettere i 50 metri di cima questa volta la cima e da 16 mm quindi leggermente più robusta abbiamo legato l'estremità della cat della cima ad un golfare dentro il pozzetto dell'ancora con una gas damante e dopo di che invece dobbiamo raccordare la cima con la catena e qui facciamo una mezza un'impiombatura che però è leggermente diversa nel senso che i tre trefoli non sono tutti insieme ma bensì vengono passati uno per ogni anello di catena comunque la robustezza è garantita comunque e nello stesso tempo il passaggio poi nel nel salpa ancore è agevolato perché non c'è un grosso nodo da far passare finita l'impiombatura lasciamo asciugare anche la vernice che segna i metri di catena e dopo di che mettiamo tutto nel pozzetto dell'ancora facendo in modo di adugliare bene la parte in cavo per evitare un riempimento anomalo del pozzetto finito di recuperare tutta la catena anche la linea d'ancora è a posto per una nuova stagione mentre la randa la lasciamo inferita nell'albero e c'è il suo copriboma col copriranda il fiocco decidiamo di toglierlo per conservarlo meglio nella stagione invernale è un fiocco anzi non è un fiocco è un genova al 130 per cento in laminato con taglio trigradiale che si è sempre comportato molto bene in navigazione lo pieghiamo in modo accurato lo mettiamo nel sacco e anche questo finisce dentro la barca fermiamo anche la drizza sia del fiocco sia dello spennaker in maniera che non sbattacchi durante le giornate di vento mettiamo anche via le scotte del fiocco mettiamo a riparo nel gavone in maniera che non si induriscano durante l'inverno l'inverno qui è zona di maestrale e quindi bisogna mettere a punto tutte quelle finezze per evitare dei problemi il vento che entra forte dentro la custodia della randa crea dei problemi quindi leghiamo il lazy bag come fosse un salame per evitare proprio che possa entrare l'aria dentro e creare dei danni insieme alla legatura del boma per tenere molto ferma la randa blocchiamo anche il boma rispetto alla barca in maniera che non possa sbattere a destra e sinistra tutto questo sempre per evitare danni visto che qui il vento di maestrale soffia anche per parecchi giorni di fila con grande intensità puliamo anche il pannello solare per poterlo ritirare visto che la nanna di questa barca sarà per tutto l'inverno prima di togliere la capottina perché anche la capottina verrà tolta dobbiamo sistemare i cavi di collegamento del pannello solare allora li mettiamo bene impacchettati dentro del nylon poi dentro un sacchettino di nylon proprio per evitare che sia ossidino durante l'inverno li fissiamo bene anche a un tienti bene e così non sbattono durante le folate di vento anche la bandiera della nazionalità della barca dobbiamo sistemarla perché pensava sventolare tutto l'inverno la primavera è da cambiare perché è distrutta allora anche questa ne mettiamo due pinzette per capelli e così sta ferma anche le canne da pesca che ci hanno dato tanta soddisfazione devono essere ritirate per l'inverno dopo averle ben lavate e tolto tutte le tracce di sale gli diamo anche una buona passata di VD40 per proteggerle dalla corrosione e anche i mulinelli li ingrassiamo e lubrifichiamo bene bene per trovarli efficienti per la prossima stagione naturalmente diamo una pulita e un'ingrassata anche ai portacanna per trovarli sempre efficienti anche le torce hanno bisogno di manutenzione controllo bene le pile e se vedo che sono un po' scariche o un po' umide le tolgo per evitare che si ossidino dentro il posto e che quindi poi le troviamo a primavera tutte incrostate da buttare per lasciare la barca con tranquillità rinforziamo gli ormeggi praticamente tutte le cime le raddoppiamo in modo che se per caso una cede ce n'è una di riserva la seconda cima la montiamo leggermente lasca rispetto alla prima in modo che entri in funzione esclusivamente quando la prima cede o si allunga troppo controllati allora gli ormeggi togliamo la capottina anche questa con i suoi pannelli trasparenti tutto l'inverno alle intemperie in primavera risulta quasi distrutta siamo quasi pronti la barche a posto e la via del ritorno ci attende ma già sulla nave stiamo fantasticando dove andremo la prossima stagione grazie 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 grazie